Ecco a voi una vera e propria rivoluzione. Con Smart Message voi sarete in grado di personalizzare il foulard. Infatti, oltre al fazzoletto, vi forniremo anche questo pennarello per scrivere appositamente sulla seta. Immaginate quanti utilizzi potrete fare con Smart Message. Per esempio potrete scrivere sulla parte bianca tanti auguri Marco, se state alla festa di Marco e state facendo uno spettacolo per lui. E magari a fine spettacolo regalare il foulard al festeggiato. Oppure scrivere ancora ti amo per la vostra ragazza, buon San Valentino, fine spettacolo. Oppure una previsione del tipo la tua carta scelta è, e magari fare un piccolo disegno della carta, o ancora scrivere buonanotte. Insomma, pensate quanti messaggi potete scrivere. E questo fazzoletto noi lo abbiamo in due misure, 45 e 45, oppure 90-90 per averlo ancora più grande. Insomma, un articolo che aspetta solo di essere sfruttato dalla vostra fantasia. Smart Message. Una vera rivoluzione.